Un corso di alta formazione rivolto a tecnici dei comuni, dell'Unione dei Comuni e dell'amministrazione provinciale che hanno compiti specifici di protezione civile. Parte giovedì 26 febbraio grazie alla provincia di Lucca e a Fondazione Cassa di Risparmio che ha stanziato un contributo di 20.000 euro. Ma direi che questo è un progetto vitale in una provincia come quella di Lucca dove purtroppo sappiamo che i rischi sotto diversi profili sono notevoli e l'idea di una formazione fatta per i tecnici che siano quindi in grado di lavorare sia in fase di previsione che di emergenza è una cosa che dovrebbe veramente ci fa piacere e rassicura un pochino tutti che gli enti locali ci sono e sono in grado di intervenire. La Fondazione al solito fa un lavoro di supporto molto volentieri. Il corso si articolerà in 24 lezioni di 4 ore ciascuna per un totale di 96 ore di formazione. svolte da un'agenzia formativa altamente qualificata, l'Etrusca Form di Carrara con docenti selezionati tra i massimi esperti a livello regionale e nazionale durante le quali saranno trattati tutti i temi che è necessario conoscere per gestire la protezione civile a livello locale. Abbiamo dimostrato sul campo che nei vari eventi disastrosi che hanno coinvolto il nostro territorio negli ultimi anni siamo stati presenti siamo stati efficaci nonostante le difficoltà ma quello della protezione civile è davvero un settore così eterogenero in termini di competenze e di abilità che abbiamo ritenuto fondamentale realizzare un master formativo per 20 tecnici.